Ciao a tutti, siamo qui al Serenometal Gym di Rayon. Oggi parliamo di tre azioni che voglio spiegare del mio ultimo match in cui ho usato i gomiti per contrastare la box del mio avversario. Come avete visto nel video una box molto sporca quindi i ganci molto larghi, diretti stile Thai. Io ho utilizzato i gomiti e la corta distanza e la mia guardia per appunto tagliarlo e finire il match. Vediamo il primo. Come avete visto nel video ho messo un 1-2 entrando molto vicino alla sua distanza. Il primo 1-2 è andato a segno. Dopodiché sono rimasto alla sua distanza perché è molto corto con la guardia alta e con il momento mi ha provato a mettermi due ganci suoi. Sono arrivati sui miei guanti perché appunto ero molto vicino a lui e molto ben chiuso. Sul suo gancio destro, essendo aperto, ho messo io il mio gomito destro. Lo potete vedere nel video, lo vediamo un'altra volta qui. 1-2 è veloce, corta distanza, bam! Ok? Sono andato col gomito destro. Seconda azione, contrastare la box con il gomito dritto-sinistro. Vediamo qua. Ok? Lui viene con due ganci sinistro e poi destro, belli larghi. Ok? Sul suo gancio destro. Ok? Io entro col mio gomito dritto-sinistro. Ok? Non hai bisogno di fare chissà che passo. Giusto un piccolo passo. Fa sul suo destro, entro con tutta la mano sinistra. Mi raccomando la mano destra a proteggere l'altra parte della faccia. Ok? Di nuovo. Fa, corcio la distanza e entro sul mento. Ok? Adesso vediamo il terzo. Ho usato questa volta il gomito destro per contrastare il suo gancio destro. In questo caso perché ho visto che il gomito sinistro dritto entrava ma non causava abbastanza danni, quindi ho cambiato e ho provato a usare il gomito destro. Vediamo come. Di nuovo, lui mi attaccava con questi gancioni sinistro-destro. Ok? Sul suo destro aspettavo il suo destro e lo incrociavo esattamente allo stesso tempo con il mio gomito destro. Ok? Quindi è importante avere il braccio sinistro alto. Ok? Vediamo di nuovo, aspettiamo, ci chiudiamo. Come vediamo che lui parte col pugno destro, incrociamo col gomito destro. Anche qui non c'è bisogno di fare grandi passi perché appunto lui è in attacco. Ok? Quindi ci chiudiamo e incrociamo in questo modo. Spero di essere stato chiaro. Grazie a tutti per aver guardato. Ciao ciao, siamo di capo. Siamo di capo.